Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia. Siamo qui finalmente su Football Manager 2019 per iniziare la nostra nuova carriera con il Lecce, con un progetto tutti italiani. So che non a tutti piacerà questa scelta, ma questa squadra ha stravinto nelle votazioni. Il Milan è arrivato al secondo posto con uno stacco di circa 40 voti e invece il Vosburg poi è arrivato nell'ultima posizione. Secondo me è piaciuto sia l'idea di questo progetto tutti italiani, ma soprattutto piace l'idea di riportare Lecce in Serie A e soprattutto cercare di far vincere qualche trofeo veramente importante a questa squadra pugliese. Speriamo bene, speriamo di riuscirci. Per quanto riguarda la beta è uscita il 18 ottobre, cioè ieri, e ci sono diverse novità che ovviamente non andremo a vedere oggi, ma nel corso dei vari episodi. Oggi che cosa andremo a fare? Andremo a vedere direttamente la rosa principale per iniziare un po' a conoscere la squadra, ma soprattutto iniziamo un po' a capire cosa ci serve, cosa dobbiamo fare per portare questo Lecce in Serie A e per poi portarlo alla gloria. Nel prossimo episodio sicuramente inizieremo a vedere un po' di news, fra cui appunto le tattiche, andremo a vedere le giovanili, l'Under 20 e l'Under 18, lo staff e soprattutto l'allenamento che è stato rinnovato, è stato migliorato e quindi andiamo un po' a studiare tutte queste novità. Per quanto riguarda i dialoghi con il presidente e il vice allenatore, non ve li faccio vedere perché sono praticamente gli stessi ogni anno. La novità è che c'è un tutorial sulle tattiche che non so se vi andrò a far vedere, o semplicemente lo vedrò io in offscreen e poi cercherò di spiegarvi un po' tutte le novità. Per quanto invece riguarda le amichevoli, come ogni anno, le andrò ad annullare e poi le organizzerò io di nuove, ecco. Detto ciò direi che possiamo andare a vedere la rosa principale, i giocatori che Lecce ha dato in prestito li ho spostati in Under 20 perché praticamente averli qui è inutile. Partiamo ovviamente dai portieri, il primo è Mauro Vigorito, giocatore italiano, come già sapete questo è un progetto tutto italiani, quindi cercheremo di tenere solamente giocatori italiani e ovviamente compreremo solamente giocatori italiani fino alla fine della carriera. Mauro Vigorito, un giocatore di 28 anni, giocatore che ha un ingaggio veramente bassissimo fino al 2021 e secondo me per quest'anno è un ottimo portiere, può essere sicuramente il titolare e quindi ce lo teniamo stretto stretto. Il secondo portiere è Marco Bleve, giocatore di 22 anni che prende un ingaggio veramente molto basso e che ha un discreto potenziale. Non è un portiere fortissimo però in questa Serie B ci può stare come vice di Vigorito e poi potrebbe anche crescere. Però ragazzi speriamo semplicemente che Vigorito non si faccia male. Il primo difensore centrale è Cesare Bovo, giocatore di grandissima esperienza che ci può dare almeno per quest'anno una grande mano. Esperienza sia in Serie A che in Serie B, è un giocatore comunque sulla carta discreto, è un giocatore che ha un contratto in scadenza che non credo che andremo a rinnovare perché ha comunque 35 anni. Però per quest'anno credo che ce lo teniamo anche perché è appena arrivato quindi difficilmente riusciremo a darlo via però insomma possiamo sicuramente usufruire dalla sua grandissima esperienza. Poi c'è Fabio Lucioni, altro giocatore veramente molto importante che ha giocato nel Benevento che poi ha portato anche in Serie A e è appena arrivato anche lui. Lucioni sinceramente è il nostro miglior difensore centrale e quindi non vorrei venderlo. Ha un contratto biennale che non so se ovviamente andremo a rinnovare o meno però sicuramente quest'anno potrà dire la sua. Come terzo difensore centrale abbiamo Francesco Cosenza che è il vice capitano di questo Lecce. è un giocatore discreto, è sicuramente una valida alternativa in difesa prende un ringaggio molto importante però ha il contratto in scadenza. Potremo anche decidere di non rinnovarglielo oppure potremo anche decidere di venderlo a gennaio per fare qualcosa di soldi. Per il momento lo possiamo anche tenere anche perché è il vice capitano e perché sicuramente ci potrà dare una grande mano. Poi c'è Biagio Meccariello in prestito dal Brescia. Ha il diritto di scatto per 500.000 euro, diritto che non andremo ad esercitare perché non è un difensore che mi piace più di tanto però come quarta alternativa ci può stare. Noi gli possiamo terminare il prestito, ce l'abbiamo e quindi utilizziamolo. In difesa abbiamo anche Davide Riccardi, giocatore di 22 anni che ha un discreto potenziale prende un ingaggio veramente molto basso ma purtroppo è infortunato per tre mesi quindi difficilmente lo possiamo vendere o comunque mandare in prestito. Diciamo che è un difensore atipico perché può giocare sulla sinistra ma non ha né l'accelerazione né i cross per farlo può giocare come difensore centrale però è bassino ed ha una scarsa massima elevazione quindi è un giocatore da far crescere, lo possiamo utilizzare come ultima alternativa in difesa in verità abbiamo anche tanti difensori centrali quindi potremmo anche pensare di giocare con la difesa a tre anche perché abbiamo anche Antonio Marino giocatore di 29 anni, giocatore che ha un ingaggio abbastanza importante ed è effettivamente il difensore centrale più scarso in questa squadra quindi in teoria potremmo anche decidere di mandarlo via perché alla fine non ce ne facciamo nulla prende pure un ingaggio importante e anche in scadenza se riusciamo a piazzarlo per circa 100.000 euro sono anche abbastanza felice ovviamente fatemi sapere la vostra. Passando ai terzini abbiamo Franco Lepore che è anche poi il capitano di questo Lecce non è proprio un terzino destro di ruolo però insomma può giocare anche come ala e se usassimo la difesa a tre lui sarebbe comunque perfetto essendo il capitano io difficilmente quest'anno lo venderò possiamo tenerlo anche il contratto in scadenza quindi possiamo fargli fare quest'anno e poi se l'anno prossimo arriviamo in Serie A facciamo un po' di cambi fra cui anche questo Franco Lepore poi abbiamo Riccardo Fiammozzi giocatore ragazzi veramente fortissimo grandissimo acquisto di questo Lecce negli anni passati in Football Manager si prendeva praticamente sempre ci punteremo tantissimo è un ottimo terzino destro c'è veramente poco da dire su di lui ha un ingaggio importante 278.000 euro però ovviamente lo teniamo stretto stretto è un giocatore comunque molto importante e ovviamente sarà il titolarissimo poi abbiamo Luca Di Matteo giocatore di 30 anni anche lui con un ingaggio molto molto importante ha il contratto in scadenza però potremmo anche rinnovarglielo anche perché è un discreto giocatore ha buone qualità fisiche mentalmente ci può stare e tecnicamente c'è un buon contrasto un buon cross un buon dribbling quindi sicuramente se non troviamo di meglio ci può essere utile un altro terzino che abbiamo in squadra è Marco Calderoni giocatore di 29 anni anche lui prende un ingaggio importante però per quest'anno ci potrà dare sicuramente una grande mano ha buone qualità fisiche buone qualità mentali ha un buon contrasto ha un ottimo cross ha una buona marcatura quindi sicuramente quest'anno rimarrà almeno di offerte irrinunciabili poi c'è Lorenzo Venuti dalla Fiorentina in prestito dalla Fiorentina non c'è diritto di riscatto può giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra non possiamo terminare il prestito è un buon terzino sicuramente ci potrà dare anche lui una grande mano quindi ce lo teniamo anche perché non lo possiamo mandare via abbiamo diversi terzini ne abbiamo ben 5 però faccio fatica a decidere chi mandare via alla fine Franco Lepore è il capitano Fiammozzi è incedibile Luca Di Matteo e Calderoni sono tutte e due ottime Venuti non si può mandare via potremmo semmai decidere di mandare via uno di questi due semmai è proprio Luca Di Matteo che alla fine ha l'ingaggio più alto e quello un po' più anzianotto ed è anche in scadenza quindi semmai fatemi sapere la vostra passando ai centrocampisti vediamo Zonev giocatore di 23 anni che ha un ingaggio veramente importante 200.000 euro ha il contratto in scadenza nel 2021 è bulgaro quindi cercheremo di mandarlo via anche perché è nel Lecce nel 2016 quindi non credo che avremo troppi problemi a piazzarlo almeno spero poi c'è Andrea Arrigoni giocatore di 29 anni anche lui un ingaggio importante ha un budget interessante il Lecce per quanto riguarda gli ingaggi sono circa 8 milioni che non sono poi così pochi e Andrea Arrigoni diciamo che non è scarso è un buon incontrista ha un buon contrasto una buona marcatura mentalmente è valido fisicamente ha alti e bassi però sicuramente può esserci utile al contratto di scadenza possiamo anche rinnovarglielo però diciamo che per questa serie B può andare poi c'è Marco Armellino giocatore di 28 anni anche lui l'ingaggio veramente importantissimo però ha veramente ottime qualità sia tecniche che mentali che fisiche quindi difficilmente ce ne priveremo insomma Lecce ha una buona squadra devo dire la verità la sto vedendo per la prima volta con voi però in difesa sta messa bene in porta pure alla fine anche nella realtà sta facendo veramente bene quindi non ci sarà una vera e propria rivoluzione cercheremo di migliorare qualche cosina però diciamo che la base in Lecce già ce l'ha poi c'è Jacopo Petriccione giocatore di 23 anni anche lui italiano ha un buon potenziale dobbiamo ovviamente decidere bene la tattica da utilizzare potremmo semmai anche provare o a venderlo o a mandarlo in prestito potrebbe crescere mentalmente valido fisicamente ha alti e bassi tecnicamente diciamo che ha le doti di un buon regista e quindi ha contrasti controllo palla passaggi e tecnica quindi potrebbe esserci utile vabbè vediamo un po' ovviamente mi aspetto vostri consigli poi c'è Tom Haye giocatore olandese giocatore che si è appena trasferito a Lecce essendo olandese ragazzi ovviamente vorrei provare a venderlo ma essendosi appena trasferito sarà molto molto difficile fare ciò io ci proverò ma in caso contrario ce lo teniamo e cerchiamo un po' di utilizzarlo come riserva ovviamente non come titolare poi c'è Andrea Tabanelli giocatore di 28 anni che il gioco già piazza nella lista trasferimenti ed effettivamente concordo con il gioco non è un giocatore che mi fa impazzire ha comunque tutte le qualità abbastanza scarse quindi proveremo sicuramente a piazzarlo ha pure un ingaggio importante quindi assolutamente via poi c'è Manuel Scavone in prestito dal Parma voglio vedere se c'è il diritto di riscatto non c'è non possiamo terminargli il prestito quindi effettivamente c'è poco da dire c'è poco da fare mentalmente è un ottimo giocatore fisicamente si difende bene tecnicamente non può fare di certo l'incontrista può essere sicuramente un buon centrocampista di quantità non c'ha il tiro da lontano però c'ha contrasti controllo palla c'ha una discreta finalizzazione c'ha un discreto dribbling e poi c'ha passaggi 12 quindi come centrocampista di quantità sicuramente ci potrà essere utile sempre se utilizzeremo il centrocampista di quantità poi c'è Marco Mancosu giocatore italiano di 29 anni prende un ingaggio molto molto alto 300.000 euro ma è anche un giocatore forte mentalmente valido fisicamente è molto molto valido e tecnicamente c'ha un ottimo controllo palla dribbling finalizzazione cross passaggi tecnica tiri da lontano potremmo piazzarlo sia come trequartista in teoria potrebbe anche fare l'ala perché comunque l'accelerazione e la velocità ce l'ha non è il suo ruolo principale però potremmo anche sfruttarlo in quella posizione e ovviamente non credo che lo andremo a cedere perché è uno dei nostri migliori giocatori poi c'è Dumbia giocatore di 28 anni giocatore francese e proprio per questo cercheremo di venderlo diciamo che il gioco già lo piazza nella lista trasferiti come riserva in teoria ci poteva anche stare però in scadenza ha un ingaggio importante è francese quindi credo proprio che lo andremo a vendere un altro giocatore importante che abbiamo in rosa è Filippo Falco giocatore di 26 anni anche lui ha un ingaggio importante 257 mila euro il contratto di scade nel 2021 può giocare sia sulla fascia destra che come trequartista ripeto il modulo sono ancora un po' indeciso potremmo giocare con la difesa a tre potremmo utilizzare diverse tattiche quindi difesa a tre difesa a quattro possiamo giocare con il 4-3-2-1 quindi quasi l'albero di Natale ci sono tante alternative che ovviamente andrò a valutare in questi giorni comunque Filippo Falco ottimo giocatore mentalmente ci sta fisicamente molto valido e tecnicamente è buono cross dribbling finalizzazione passaggi tecnica attività lontano quindi sicuramente non lo manderemo via sempre che non ci arrivi un'offerta veramente molto molto valida poi c'è Cosimo Chirico giocatore di 26 anni prende un ingaggio veramente bassissimo potrebbe essere una valida alternativa ho letto che tipo non è un giocatore amatissimo dai tifosi del Lecce però fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se non mi sbaglio però insomma è un ingaggio bassissimo fisicamente ci sta mentalmente non è granché però insomma tecnicamente ha buone qualità controllo palla cross dribbling finalizzazione passaggi tecnica quindi come alternativa sulla destra può esserci utile soprattutto con un ingaggio così basso poi ci abbiamo Giuseppe Torromino giocatore di 30 anni ingaggio anche lui importante 300.000 euro al contratto in scadenza può giocare sulla fascia sinistra anche se ha un cross basso solamente 10 può giocare come trequartista anche se ha un pallino rosso e poi anche come attaccante devo essere sincero non mi fa impazzire perché a 30 anni è un ingaggio importante in scadenza per quanto non sia scarso però non è né fortissimo come esterno più che altro per il cross 10 non è valido come attaccante perché comunque finalizzazione 11 colpe di testa 11 trequartista non lo sa tanto fare cioè controllo palla passaggi 11 tecnica 13 è un po' un incognita potremmo anche decidere di vendolo ovviamente fatemi sapere la vostra passando alle prime punte abbiamo Stefano Pettinari giocatore italiano di 26 anni prende un ingaggio di 140.000 euro non altissimo ed è un attaccante che non mi fa impazzire più che altro perché ha un colpo di testa e una massima elevazione bassi solo per questo non mi piace tantissimo però si è appena trasferito a Lecce quindi non so se lo riusciremo a vendere io ci proverò però nel caso lo teniamo e lo sfruttiamo come vice attaccante perché poi c'è Andrea Lamantia giocatore italiano di 27 anni prende un ingaggio di 120.000 euro e mi piace di più perché un metro e 90 massima elevazione 15 colpe di testa 14 ha un buon controllo di palla ha finalizzazione 13 questa è veramente una torre che può sfruttare i cross dei suoi compagni di squadra questo è l'attaccante che a me piace e sicuramente ci potrà dare una grande mano a son di gol almeno lo spero ultimo attaccante è Simone Palombi in prestito dalla Lazio voglio vedere se c'è il diritto di scatto sì 500.000 euro ha un ottimo potenziale abilità potenziale 5 ed è anche lui un buon attaccante ha colpe di testa 13 finalizzazione 13 massima elevazione 11 sicuramente meglio di 10 quindi effettivamente lui potrebbe essere un buon attaccante da alternare alla mantilla se non addirittura il titolare di questa squadra per lo staff pettinare è il migliore però a me pettinare non piace per le caratteristiche che ha possiamo alternarli in teoria possiamo anche decidere di giocare con l'attacca 2 possiamo fare veramente di tutto e ovviamente fatemi sapere la vostra l'obiettivo di questo video era mostrarvi semplicemente la rosa per decidere il da farsi per capire cosa dobbiamo fare per migliorare questa squadra quindi mi raccomando a bomba con i consigli qui sotto nel prossimo episodio come già detto andremo a vedere le giovanili andremo a vedere lo staff andremo a vedere gli allenamenti e le tattiche sono poi due aspetti che sono stati rinnovati detto ciò mi raccomando a bomba con i consigli mettete mi piace condividete il video iscrivetevi alla pagina facebook che trovate qui sotto in descrizione iscrivetevi al canale se non siete iscritti e come sempre un saluto da Mike94 ovviamente da Football Manager Italia ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti